In località Bosco di Limmari, i soldati tedeschi trucidarono 128 persone enermi, di cui 60 donne, 34 bambini al di sotto dei 10 anni, molti anziani. Sono passati esattamente 76 anni dall'eccidio di Limmari di Pietranzieri, compiuro dai nazisti il 21 novembre del 1943. Per non dimenticare quella strage, per coltivare valori della pace, il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha proposto l'istituzione di un Parco Nazionale della Pace a Pietranzieri, nell'ambito di un programma che preveda la realizzazione di un museo della memoria per favorire l'attivazione di iniziative su temi dei diritti umani e dell'educazione alla pace. Risale a due anni fa la sentenza storica pronunciata dal Tribunale di Sulmona, che condannò la Germania a risarcire 5 milioni di euro ai parenti delle vittime e 1,6 milioni di euro a comune di Roccaraso. Nelle scorse settimane legali si sono attivati per dar seguito a quel dispositivo epocale. Sono stati quindi pignorati terreni alla Germania. Nelle motivazioni della sentenza si spiega che la verità è che una simile strage fu resa possibile proprio dalla sistematica condiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassino, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile. e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca e che lo sterminio degli abitanti di Pietranzieri fu più cinicamente lo strumento attraverso il quale l'esercito tedesco, intimorito dall'avanzare delle avanguardie alleate, fece piazza pulita dei civili ancora presenti nella fascia di sicurezza. La giustizia vatti il suo corso, verrebbe da dire, anche se quella tragedia difficilmente sarà dimenticata.